Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e in questo video ti voglio parlare dei tipi di apertura per le finestre blindate. Ma prima di tutto, che cos'è una finestra blindata? Per vedere che cos'è una finestra blindata puoi vedere tutti i video che ho fatto in precedenza, i video sulla sicurezza antifrazione e sulle classi antifrazione. Qual è giusto scegliere per la tua casa? In sostanza è una finestra che ti deve dare la sicurezza per proteggere te, i tuoi cari e le cose a te care all'interno dell'abitazione. Ed ora possiamo venire ai tipi di apertura. Che cosa intendo? Se una finestra si apre scorrevole, si apre battente nel numero delle ante, perché anche a parità di classi antifrazione avrai sempre dei tipi di apertura più sicuri e meno sicuri. Ad esempio, tutta la famiglia delle aperture a battente sarà meglio delle aperture scorrevoli, anche a parità di classi antifrazione, perché il battente ha delle chiusure migliori. E tu questo della classe antifrazione purtroppo non puoi vederlo, perché leggerai classe 3 e classe 3. Magari una che è 3 pera pesa, l'altra è 3,99 pera 99. È la battuta, ma rende l'idea per far capire che cosa intendo, perché poi le classi vanno da A, non ci sono delle classi intermedi, non puoi prendere 3, qualche cosa. Però ad esempio, una finestra fissa sarà sempre più sicura di una finestra apribile. Poi una finestra apribile, il meno numero di ante, ad esempio un'anta, sarà sempre più sicura di una finestra a due ante. Quando parliamo di finestre invece 3, 4 ante, lasciamo stare, perché lì è meglio che iniziamo e che smettiamo di parlare di sicurezza, perché la sicurezza è inesistente. Ci sono solamente alcune soluzioni a pacchetto, dove abbiamo tutte le richiusure perimetrali che garantiscono una discreta sicurezza, con una classe antifrazione non si arriva agli estremi, ma non c'è male, ma anche quella sicurezza di classe 2 sarà molto, molto, molto meno più sicura di una finestra a un'anta, di una finestra fissa o di una finestra a due ante. E lo stesso discorso vale anche per le aperture scorrevoli. Uno scorrevole a un'anta sarà più sicuro di uno scorrevole a due ante, che sarà più sicuro di uno scorrevole a tre ante e via di seguito. Spero vi avete chiarito le idee sui tipi di apertura, che è una cosa della quale non parla nessuno, siccome io tengo particolarmente al tema sicurezza, ho voluto darti anche questa informazione. Se anche tu vuoi essere sicuro all'interno della tua casa e per te e per la tua famiglia, vai su www.bisacchi.it e richiedi una nostra consulenza. Non ti dimenticare di mettere mi piace sul video e seguo il canale. Ciao e al prossimo video! Ciao!